Questa è una bella domanda che giro anche a voi. Se non fosse tornato Cody, chi sarebbe stato l'erede di John Cena? Intanto Mirko92, grazie per il quarto mese di abbonamento su Twitch. E questa non è facile. Cioè hai bisogno di qualcuno che spezza la tradizione del wrestler menefreghista, dell'ho finito vado a casa, del lavoro un'ora più degli altri, del sono disponibile a stare al fianco di chi soffre, sono disponibile a fare cose con la stampa, con i media. Forse dirò una cosa che mi prenderete per pazzo. Intanto sto leggendo Sami Zayn, Seth Rollins, Drew McIntyre, tutti i nomi hanno un senso. Cioè sapete il primo nome a cui ho pensato? Che non può essere l'erede di John Cena per alcuni motivi tecnici. Io ho pensato a Bianca Belair. Il primo nome che mi è venuto in mente. Ho pensato a Bianca Belair. Perché non può essere? Perché gli uomini hanno ancora in WWE un palcoscenico più grande delle donne. Però Bianca Belair fa le cose di beneficenza, sa comportarsi in pubblico, ha delle belle storie, strappa lacrime. È una ragazza emotiva che mi sembra sincera nel suo interessarsi agli altri, nel suo fare beneficenza, regala le strutture per la corsa ostacoli alla scuola, che le ha permesso di vincere una borsa di studio. Alla ragazzina che balla per lei a Vrestalmenia a cui è morta la madre, la tira su di morale, va a trovare quel gruppo di ballo, fa delle donazioni. Quindi Bianca Belair, secondo me, ha quel ruolo lì. E vi dirò la verità, è il primo nome che mi è venuto in mente. Grazie. Grazie.